Buonasera, benvenuti, vi rincalzo che esco qua. Questo è il quarto e ultimo appuntamento di questa serie di incontri che sono stati organizzati dal residuo comprensivo, io sono un dirigente che è qua oggi, coordonata dalla professoressa Donatella Galli e in collaborazione con il comune di Mondale, con il comune di Italia Romerisga e che è qua oggi l'assessore inizio possibile. Abbiamo affrontato quattro argomenti molto importanti, con quattro anche relatori molto validi e hanno espresso concetti che fanno comunque effettere su varie tematiche ma tutte importanti allo stesso livello. Questa sera affrontiamo un argomento molto molto importante che ci coinvolge un po' tutti, i ragazzi ma anche noi adulti, perché mi rendo conto che spesso capita che se noi dobbiamo dare un esempio ai nostri figli, capita spesso che questo esempio con l'uso dei dispositivi magari non lo dobbiamo. Quindi ringrazio la relatrice di questa sera, la professoressa Raffaella Maggi, lascio la parola al dirigente scolastico e vi ringrazio ancora per la vostra presenza. Buonasera a tutti, ormai l'assessore dell'ultimo incontro, siamo passati dal conflitto alla cultura, alle emozioni, stasera studiamo con un argomento caldo, quindi immagino ci interroghi dal punto di vista come educatori, come genitori. Penso sia stata anche interessante la formulazione di questo incontro, perché non è semplicemente, non discutiamo di tecnologie, pro incontro, ormai un argomento superato, siamo denti, siamo immersi, ormai detto come genio. Si tratta piuttosto di passare dal piano ideologico, quello del preconcetto oppure del sospetto, al piano della scelta, della riflessione, della discussione del piano. Perché qua dobbiamo fare i punti. Penso che i nostri ragazzi, noi a scuola in questi ultimi anni siamo riempiti di tecnologia, di computer, tablet, televisioni, di tutto di più. Ecco, stiamo iniziando con i ragazzi a ragionare proprio sul digitale, parliamo di educazione digitale, parliamo di consapevolezza. Penso sia l'importanza di questo incontro e altri, spero che ne seguiranno, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di guida, hanno bisogno di indicazioni chiare, precise. Ecco, qua noi siamo gli adulti e anche qua dobbiamo dare loro indicazioni precise e dare loro una chiave di interpretazione. Quindi ecco, spero che questo sia uno dei tanti incontri quotidiani, perché siamo noi a fare la differenza. Quindi ecco, grazie per essere venuti e lascio la parola alla professoressa Gani per una breve introduzione e grazie ancora all'amministrazione e alla professoressa Gani. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, sì, grazie, diciamo, da parte, ma anche io e la scuola, quindi in generale, per aver trovato il coraggio di essere dedicato, come è sempre facile, dopo la giornata di lavoro che tutti abbiamo alle spalle, e per trovarci qui appunto con quest'ultimo incontro. Questa sera abbiamo con noi appunto la professoressa Fella Marci, di cui brevemente il gusto del curriculum. è un'insegnante a tempo indeterminato, pedagogista, membro dell'Unione Italiana Pedagogisti, formatrice consulente per docenti, esperta per screening sui studi specifici dell'apprendimento. Potremmo continuare con un valente molto lungo, perché il suo curriculum è, diciamo, che è iniziato nel 2010 ed è costituito da 15-17 pagine, quindi è un'esperta, un'esperta di spessore, insomma. La sua, diciamo, improvvisabilità si è allettita di esperienze, di incarichi e di stili all'interno della scuola e anche presso enti e istituzioni che si occupano di istruzioni e formazione, l'unico scolastico regionale, l'ambito territoriale e diversi istituti scolastici. L'ambito di questa sera, come anticipava il dirigente, è molto caldo. Ovviamente non possiamo demonizzare i miei strumenti tecnologici perché appunto sono del nostro tempo, sono la nostra contemporaneità, ma sappiamo benissimo che impattano in maniera, diciamo, di significativa sulla modalità di apprendere da parte dei nostri figli e allievi. In conseguenza dobbiamo interrogarci, la scuola deve farlo per modificarsi, per assumere un atteggiamento critico e di evoluzione rispetto alla didattica che non ha messo in campo, i genitori devono interrogarci per acquisire questa pevolezza perché gli studenti tecnologici modificano il modo di relazionarsi, il modo di stare a scuola, il modo di apprendere e costruirsi le conoscenze. Per questo, questa sera, ci siamo qui per avere qualche informazione e per fare il strumento in più per poter realizzare questo argomento così complesso ma con gli attuali. E quindi lascio la parola alla professoressa D'Artella Maggi. Grazie. Grazie. Grazie innanzitutto al dirigente scolastico che in collaborazione con le due amministrazioni, vedete, le rovedesche di Mondaglio, mi hanno ospitato. Ringrazio anche la professoressa Galli, non ci conoscevamo ma è nata anche una sorta di collaborazione, e poi ci siamo confrontati, o per cui la tematica che andrò ad affrontare con voi questa sera è stata un po' studiata insieme, perché sia come aveva appena accennato il dirigente scolastico ma anche la professoressa, oramai comunque viviamo in un'era digitale, ma anche di una società complessa in cui comunque dobbiamo fare i problemi. Possiamo essere contrari, ostativi rispetto all'utilizzo dell'informatica, dei computer, dei tablet, eccetera, ma dall'altra parte dobbiamo tenere conto perché comunque anche noi oramai siamo super connessi e non possiamo, no, alcune volte fare a meno. Quali sono poi i paletti? Io oggi ho preparato, diciamo, un'idea centrale che faranno un po' da filo conduttore, tante, insomma, saranno così anche scorse perché effettivamente, ma era per avere un po' un'idea generale quello che è accaduto nella nostra società, ma quello che sta accadendo magari anche ai nostri figli, anche per effetto di anni pandemici inaspettati che indubbiamente hanno condizionato tantissimo i rapporti sociali hanno condizionato tantissimo le relazioni tra i adolescenti, tra i bambini, onde per cui in realtà noi ci ritroviamo spesso, anche e soprattutto, diciamo, nel mondo della scuola a dover un po' tamponare queste criticità che sono nate in questi, diciamo, due, tre anni, che sono stati tragici, no, nella società in generale, ma sono stati tragici per i loro vissuti, anche per molti bambini e molti ragazzi e adolescenti. Quindi, fatto da questa necessità, da sempre l'uomo ha avuto bisogno di comunicare, no? Perché in qualche modo l'uomo ha scontato tutti i mezzi che poteva avere a disposizione fin dalla sua presenza sulla terra per comunicare, perché comunicare è un bisogno primario. è un bisogno che, in qualche modo, deriva da una necessità di mettersi in relazione con gli altri, ma anche per esprimere i propri sentimenti, per esprimere le proprie idee, per esprimere anche i suoi pensieri, in generale. E tornerò su questo concetto di pensiero, perché il pensiero è una delle funzioni cognitive che, al momento, su alcuni ragazzi, oserei dire, leggermente compromesso. A volte, i miei colleghi aiutano, perché io forse mi tornerò a quei livelli lì, perché la Cluana ci aveva già dato, no, in passato, nei suoi scritti dei segnali del moritore, così come Giorgio Orwell, no, c'aveva un po' le grande fratelli, eccetera. A volte, ecco, queste sono situazioni un po' anche catastrofiche, diciamo così, ma stiamo anche, soprattutto per i ragazzi che sono molto deboli. Quindi, ecco, diciamo che il fatto di comunicare, è stato oggetto di studio, di diversi approcci di studio, dal lato di teorici, di studiosi, ed è un argomento molto ampio, sul quale sostanzialmente, ancora oggi, noi ci interrompiamo, no? Soprattutto tante discipline, a partire, no, da discipline come la linguistica, la matematica, l'informatica, la cibernetica, ma anche la tecnologia, proprio perché dobbiamo capire quale relazione intercora tra le persone attraverso una comunicazione verificace, che molto spesso non è solo una comunicazione verbale, ma a volte anche una comunicazione non verbale determinata anche, per esempio, dalla prossella. voi li dite, ma questa perché stasera ci troviamo in giunta, no? Questa comunicazione ce lo sappiamo. E il problema è proprio lì. Ma oggi i nostri casi comuni fanno a casa? Quindi, ritorno su questa situazione, perché faccio delle progresse, sempre la comunicazione, una dimensione interiore, psicologica, per far sì che attraverso una comunicazione inizia a esprimere i nostri sentimenti, i nostri stati d'animo, le nostre sensazioni, le nostre paure. Un'attività sociale. Chi, no, nel lavoro non comunica, non esprime il proprio pensiero, a volte anche c'è una riconosciazione, no? La riconoscenza, come nell'ottica di una co-costruzione sociale della riconoscenza. Una risposta è disordina anche di tipo fisico. Contribuisce a formare e consolidare anche il nostro senso di identità, un linguaggio spiegato, un linguaggio rapido, fluido, a volte consente di adentere a dei bisogni o corrispondere anche alle necessità che gli altri ci chiedono. È un'attività prevalentemente cognitiva, prima che ho detto, una funzione cognitiva importante che però va esercitata. Nelle nostre aule noi sentiamo molto spesso lo so, ma non devo sopire. Quindi, questo linguaggio, questo pensiero, per volte risulta anche molto disorganizzato. Io sono mamma, mio figlio è abbastanza caldo, non ho mai 24 anni, ma quando vedevo che utilizzavo, a volte il cellulare, non lo sai, O non lo fanno talmente ed oggi, io ancora 50-50 anni devo morare, spero che prima o poi questa attività riesca, ma questi linguaggi lo sono velocissime, lo vedo anche con Bambini e Pintri, ecco, in me. In realtà, vedevo una comunicazione con i suoi compagni e una comunicazione con Dico, Oddio, no, perché? Per la perla, no, che? Senza cielo, senza l'u... Oddio, dove arriveremo? E, insomma, è avanti come tu parli, insomma, poi, all'emmeno semantico, esistitarsi, come costruiamo? No, anche un contesto scritto che sia comunque ben organizzato. Mi sono un po' preoccupata e anche lì, parlando con gli insegnanti, dicono, no, guardi, in realtà, comunque, no, lui è bravo a scrivere bene, però a scrivere bene non si invitava di in quel momento arrivare ad un linguaggio e soprattutto a non escriversi con un tratto con errori ortografici che poteva però diventare un'anidudine e questo è insomma un problema che molto spesso compresce i 12-5 anni. Da alcuni anni di questa parte e soprattutto a quest'anno, no, e l'anno scorso con il PNRR si è diffusato anche questa intelligenza artificiale. molto spesso noi ci interroghiamo ma che cos'è questa intelligenza artificiale? Cioè, abbiamo la nostra intelligenza perché lo dovremmo utilizzare l'intelligenza artificiale? Non è un abuso di intelligenza artificiale o un sostituto rispetto all'intelligenza umana perché credete che molto spesso i bambini e i ragazzi sono molto più rapidi di loro e di acquisire anche la modalità di utilizzo di questi strumenti perché magari non gli insegnanti ci dobbiamo formare o no, perché siamo lenti per percepire anche questi cambiamenti dell'informatica. I ragazzi sono proprio veloci ma cosa c'è che non va e pure la mente umana in base nelle conoscenze bisogna sempre allo stesso modo cioè il cervello funziona sempre allo stesso modo sia in una zona adulta sia in un ragazzo di 10-15 anni e 20 anni è una vera modalità di acquisizione di quelle strutture produttive che sostanzialmente si stanno modificando nel ragazzo perché ci sono altri strumenti che determinano la conoscenza e che sono su alcuni di noi ancora i presi schemi oltre per cui che cosa ci si chiede io faccio dei pistini che diceva prima la noca professoressa di salare dice la la margisona va a fare i pistini nel tanto suono una margisona di oltre 5.600 casi quello che mi preoccupa che ho scritto qui a volte è il vedere che molti bambini non gioca più e si stiamo vedendo allora il gioco è un'attività di relazione per il cittadinanza che probabilmente ha poter dire la zonanza per noi per i bambini inventare attraverso anche un gioco simbolico per esempio negli snazi della mamma del papà nell'aluto rappresentarsi delle scene di vita quotidiana il gioco simbolico questo c'è lo dico delle adolescenze la letteratura scientifica sta in qualche modo di rinunendo allora io mi interro perché in realtà il gioco è quel volano che consente comunque un primo approccio anche alla femmina io sono originaria di Caravalli che mi ha mandato con le confessori e sono io stessa confessori anni quindi il vedere i bambini che costruiscono quella torre rosa o la scala marrone e si accorgono dell'errore che cominciano da capo e vedere invece anche tutti i bambini che questa cosa non la fanno insomma mi metto ancora a colice nell'oretti perché dico ma come mai staccare i bambini anche più alimentari la risposta è facile perché i bambini oggi sono spesso questi io non credo alla vincitura ve lo dico subito nazi digitali perché bambini non nascono con il telefono in mano o le strutture neurocomputicali formate in base a il tablet del computer del cellulare e non è neanche culpa loro di questo perché ve l'ho visto in uno slide successivo in realtà la culpa è vedere perché il modello siamo noi se ci fosse qui il modello è il modello io mi scudo e dico ragazzi devo tenere il cellulare perché mi può chiamare da felice metto la segreteria lo facendo parte dello staff ma comunque quell'esempio è tutto di me dai ma è maniere oddio mi hai dato un messaggio aspettato e mi devo rispondere il messaggio che passa nel momento in onetti è quello devo rispondere devo vedere chi mi ha chiamato e a volte è stata anche no la frenesia io ho lavorato anche per grado in un progetto sull'orientamento con Cari Verona e diverse scuole sono cari anche qui di Nuova Seminaglia e dicevo ma come studiate voi a casa da un progetto tra un'adolescente di un teatro te guardavo se avvenire il no di parlare e parlare è la cosa che io conosci con l'IVA tutti gli studenti era avere sempre il cellulare di presente e rispondere magari se fanno fatti come hai fatto quell'esercizio adesso hai fatto te l'ona hai un po' che non usciamo quindi vedete anche a volte quando noi parliamo di attenzione allo studio concentrazione no non c'è c'è il fatto di delegare tutto all'altro ma non è tutto così negativo perché non possiamo dire che le tecnologie come il telefono non sono diciamo carenti totalmente carenti perché comunque ci sono tutte le situazioni io per esempio ho occupato di anche ragazzini con difficoltà e su questo ci dice afferminetto il canale anche tecnologico può servire tanto in un'ottica di conoscenza ovvero sia se la ragazza non può utilizzare un canale visivo vedere non lo so un video che rifiede la cosa che è stata fatta a scuola quindi utilizzare il canale visivo può essere incattivante immagini incattivanti c'è informazioni che non hai una visita a scuola c'è un particolare che non rimane impresso quindi per esempio anche che all'interno delle classi e adesso non esistono più no ma è tutto ma è passato ma abbiamo un computer enorme che riflette e possiamo utilizzare all'interno della classe per poter dare le opportunità a tutti perché comunque la scuola deve garantire il conseguito successo formativo in qualsiasi momento utilizzare tutte le strategie possibili immaginare quindi è la modalità di utilizzo che dovrebbe cambiare e come possiamo sostanzialmente noi aiutare questi ragazzi a utilizzare in modo corretto ma non perché non sappiano fare io adesso lancio un po' sia una sfida perché mi veniva da sorridere quando si dice dobbiamo imparare ragazzi utilizzare le tecnologie ma non sono più bravi di noi non non è il saper fare è il saper utilizzare in modo corretto perché io ad esempio mi insegno di una classe quarta ho messo i bambini davanti al computer tra canva powerpoint primisi e quant'altro mi hanno fatto dei lavorati splendidi ho fatto questa sperimentazione senza dire nulla si sono messi insieme come tu guarda questi come no il poco tempo ecco perché dobbiamo invece canalizzare su che cosa può essere utile per l'apprendimento un apprendimento che anche attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti come il computer o il tablet potrebbe essere anche comunicativo perché è interessante anche questo dove c'è anche interagire io utilizzo molto in questo modo il computer mettiamocela insieme facciamo questo lavoro di tutto che deve essere un risultato finale un artefatto finale ma non iniziale e quell'artefatto nasce dalla memosizione dalla conoscenza di tutti dallo scambio di informazioni da un pre-story che cosa sai rispetto a da un confronto dall'ideale o da un progettale quindi sto cercando di far capire che non tutto è negativo anche perché comunque torna a riparire la premessa è oramai in questa società della complessità le tecnologie ci sono non possiamo farne almeno io per prima dicevo prima cosa sono andate in crisi perché è andato il computer telefonato al tecnico dice guarda cercami di far fuori più memoria possibile salvami più documenti così perché altrimenti sono discherata le fama a ogni lato non scarichi qualcosa sì ma qualcosa no perché non c'è mai tempo però ecco per fortuna che in qualche modo ogni tanto qualche pennetta come cosa ha inizio gli altri scelpi questo era un abuso negativo di toc no e foto quindi quali sviluppi possono dare perché ho messo proprio quelle immagini sotto che è come posso dire un po' preoccupante perché quando vanno in giro vengono questi ragazzi tra gli sviluppi ecco che sta il cellulare quella che si dava a forno quell'altro no che cerca di informazione quindi c'è una sorta di distanziamento sociale perdita nel senso anche di cose reali vi dirò nel proseguo anche che cosa sto intanto come dialogista anche dal confronto e dallo scambio delle informazioni che vengono dai genitori mio figlio non vuole più andare a fare sport mio figlio non esce in casa beh che fate in tua casa sta in cameretta sua e sta con il cereale e poi scelgo quando lo chiamiamo per cui una vicenda ma scelgo subito e allora lo dobbiamo ritornare altre volte ma il sabato e la domenica come occupo il tempo ma prova a chiamare qualche amico ma però non riesce a riuscire perché quello è un impegno poi che non è così contento allora sta a casa e a casa come occupa il tempo sta nulla ce l'ho dare e poi vedete qua questi sintomi dissociativi questi mi sto preoccupando sto dicendo di danni preoccupanti non tutti per cultura sono così obesità naturale cellulare mangio sapete quante volte i genitori mi dicono trovo le carte che le sono pieni dentro i cassetti trovo le carte cioccolatine nascoste in mezzo ai libri trovo i pacchetti di patatine dico ma in camera necessissimo in camera lo fa anche in pazzate distrutti le nuove io sono vecchietta allora nel 2002 erano scelti i più giochi elettronici che voi non so se qualcuno di voi allora avevo un aluno guarda sempre stato un ragazzino tardissimo studioso a modo poi la proteda c'era ma quanto c'è un cervello che non ascoltava era serbio ascoltava poco esce fuori e per la pugnone aveva facendo questo che è fuori ma tutto bene vicina non era un so un'ora al giorno mezz'ora al giorno poi anche studi delle neuroscienze ci sono anche le 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 guida che dicono che anche sono che sei anni massimo morano davanti al compiuto davanti alla televisione davanti al compagno 19 anni dopo c'era nascosto i genitori perché questi sono accorti i genitori lui lo prendeva e si metteva sotto le coperte continuava fino non si sa anche ora la tardina prima di scuola stava un'altra ora allora io ho un carismanico che è un neurocienziale pieno bene con tutti i mondi per giuseppe di bellezza un omone alto grosso oramai quasi tant'iente l'abbiamo chiamato anche nel mio istituto e più volte rinanziamo questa cosa stare davanti ad un tablet un'ora equivale a otto ore di lavoro in fabbrica duro significa che il cervello umano se sta continuamente tra gli anni va in crash il cervello umano uno dice mamma mia quanto siamo catastrofici e quindi si occorre essere una volta catastrofico ecco perché dicono al ragazzino che sta sempre davanti un contenutilizzo magari internazionale dove c'è sempre quella dipendenza che invece attraverso i modi che oramai dispondesse dalla libertà per un astuto connesso con più internazionale del telefono e l'autogattività che potrebbe determinare non assumere l'uso di presidenza vedete anche il risulto del sonno io avevo una ragazzina di fronte a casa mia il mio marino dice sempre ma te ti ha fare come mai ricerca quando ci sono adolescenti bambini ma guarda io per casa perché lo servo allora questa ragazzina tra dieci anni vede la luce la pavoletta accesa un giorno la mamma mi dice guarda adesso non rispute essere per me mi fa sai cosa succede che le hanno riscate avanti avanti le erano ma c'è stato a fine delle notte io perché sono in angola no per esempio che è il contorno delle notte ma allora le alzo no perché i latimenti disturbo tutti ma mi dice che questa è la situazione che vede tutti hanno al chiedere preoccupate parte la mamma e il papà a un certo momento ha piaciuto per un mese in mezzo stai senza le erano squilli negativo irracimilità a volte anche rispondono male in parte oppure dall'altra parte frustrazione casi più gravi casi più gravi e questo ciò dicono distruttuosi dipendenza dalle sostanze nei casi più gravi oppure come è accaduto su tutto la pandemia casi anche dei ragazzi che si sono sollecitati parlo solo del mio entourage a monte santini e caravalle risultati con la pandemia 4 ragazzi questo eccoci qua quindi però che cosa fate nella scuola noi ce l'abbiamo no questo strumento di simone e io non sono contraria all'utilizzo anche qui perché ero giusta no nel senso per carità insegnate alla scuola primaria io dico più cambi no mi mettiamo davanti e meglio queste abilità di base sono tese alla scrittura e altanto vanno assolutamente imprendati ma poi per esempio per lavorare insieme per in qualche modo progettare di realizzare anche un artefatto che deve essere la relazione finale un powerpoint o un laurento o una lucantina su Canva sostanzialmente noi le possiamo utilizzare ma le siamo utilizzate anche per realizzare quelle situazioni li apprendimenti nel progetto delle strategie che servono per i ragazzini che magari si trovano anche difficoltate perché no quindi è dal 2006 che l'Unione Europea ha risedito le competenze digitali e le ha rinnovate anche nel 2008 proprio perché ora la sfida più grande è proprio questa cioè noi siamo in casa con i nuovi paradigmi educativi perché comunque lo studente che esce dalla scuola seminare a San dobbiamo essere anche uno studente che sa lavorare in squadra che sa manutenzione critico che riesce anche a lavorare simultaneamente all'interno delle grandi aziende per realizzare dei prodotti in modo anche abbastanza veloce per cui l'utilizzo di anche alcune hardware che sono importanti rispetto a mani lavori specifici lo studente le deve sacrifare prodotti per cui la realtà è questa perché per esempio l'Italia ha ratificato immediatamente all'interno della scuola attraverso le indicazioni nazionali per il curicolo una differenzione era del 2007 era un poco terapeutico si era chiesto per gli insegnanti e parenti che parla di tutto tecnico scientifico relativo a questa implementazione di nuove modalità di insegnamento ma di comunicazione nazionale comunque si parla di modalità di apprendimento significativo cosa significa un apprendimento significativo è un apprendimento che per un studente ha senso allora a volte no io vi faccio i miei colleghi se in sala ci sono i colleghi a scuola secondaria secondaria non me ne è vogliate ma lo scopo è benedato perché quest'anno sono anche lento alla scuola secondaria secondaria con pedagogista e questi ragazzi da un anno mi hanno chiamato la professoressa ha spiegato due pagine di così hai visto un due no ma te ci dai ma andiamo a vedere no quale cosa soprattutto le ragazze come genitiva che fanno difficoltà a memorizzare quei ragazzi che fanno difficoltà a pianificare una risultazione orale rispetto all'argomento che fanno difficoltà ma anche a memorizzare che ne so delle formule di chimica delle formule di fisica magari invece l'ho diverso convinto perché qua ci sono anche fatti molto bene da insegnanti che ogni tanto si ci mettono poi durante la pandemia li hanno imparato a utilizzare di tutto di più quindi ci siamo non dico divertiti perché riguarda la pandemia è stato veramente faticoso che lavoravamo forse in primo rispetto alla quotidianità però anche per noi è stato veramente un signo dove c'era una resistenza da parte di insegnanti ma resistenza non dico perché non lo voglio utilizzare ma resistenza perché non era più per me farlo però è stata una modalità che mi ha iniziato il gioco per imparare ed è stato uno signo dall'altra parte anche per quei bambini per l'azzo e per i studenti vedere una didattica chiamata ovviamente innovativa non più trasmissiva ma una didattica dove si poteva i bambini interagire perché interagire è fondamentale ritorno a prima noi abbiamo comunicato di interagire si può con le tecnologie certo che sì ma non su whatsapp o perché ma si può interagire in altre modalità noi per esempio nelle scuole andiamo nelle nostre classroom no ma nel classroom non si possono costruire anche i ragazzi ho dato questo input in una scuola secondaria e non ho conto i ragazzi ho detto ma perché avete costruito nel classroom dove magari uno di voi lancia una mancia anche analica organizziamo un sabato sera di minuzzo trovatevi a mettere delle idee questa piattaforma dove veramente costruite la conoscenza insieme cosa possiamo fare dove possiamo andare che ve ha lanciato vi ho cercato però di scrivere con l'italiano corretto utilizzare il nostro ricordo è stato un esperimento che sostanzialmente è cresciuto oh sai cosa che però c'è nato un'idea vabbè ce ne sono tante però cercate di in qualche modo inventarla o soprattutto rivederla anche in contesti diversi da quello che è stato sperimentare nella scuola è nato le due le 15 con la leggi lezzi anche il santo avroganciato il piano nazionale della scuola digitale ed hanno partecipato tante scuole e posso dire che le esperienze narrate raccontate che sono anche sulla piattaforma di vivere sono state coinvolgenti per i ragazzi ma che non hanno nulla a che fare con quello di cui i miei parlatori cioè quella indipendenza che in realtà porta poi ad essere negli atti ma invece ti porta ad essere da ottenere perché si in gioco perché si formano perché cercano le informazioni le elaborano onde per cui la conoscenza si amplia anche con una modalità diversa rispetto a quello che si può fare le informazioni del ciclo con questo non dico che non sono o per dire che ho portato i miei a tutti nella biblioteca quindi sono fa autrice a me costruire l'amministrazione comunale da me e ho fatto insieme a un'altra collega una nota con sita per le dire guarda o costruiranno una biblioteca nuova anche per i bambini oppure c'è l'asce di la cosa ha ottenuto una biblioteca carina per tutti gli spazi dove naturalmente l'ordica anche dell'ambo con gli uniti come lo sia cioè cercare di contenere anche una situazione diversa rispetto al semplice di inizio della biblioteca come presso il librario abbiamo attivato anche le attività che utilizzano per esempio anche il computer però io posso dire che la frequenza dei bambini dei ragazzi che io presi non ho contesa di che c'ha 3.500 dettagli piccoli niente nulla però è limitata per il tempo se avessimo ragionato solo con il mio colibro sarebbe stata disfunzionale che non avrebbe funzionato quindi vedete che il piano nazionale della scuola digitale ha avuto proprio questo obiettivo di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologiche ma anche di fondere proprio questa idea di apprendimento permanente e implementare anche questo concetto di ambiente di apprendimento non solo come spazio fisico ma anche come spazio di negoziazione della conoscenza uno spazio che nel tempo anche per effetto dei dinari che ci sono arrivati dal ministero adesso anche che viene a mente abbiamo potuto vedere anche abbastanza scantivante per i nostri studenti e per le scuole uno dice vabbè a volte no abbiamo anche degli ambienti insomma non so non conosco le realtà delle scuole però quando vado nelle città qualcuno dice sì ma abbiamo le aule brutte ambienti e poi abbiamo tutte queste tecnologie capisco anche questo perché naturalmente nelle grandi città è la l'arri internazionale c'erano giustamente le codere che ci parla quindi i codere che va dietro e non c'è qua le aule che sono stanzialmente sono ancora d'arri sistemati però la scuola c'è questo perché naturalmente vogliamo anche ragionare su cittadini più competenti uno dice anche sì per essere confidenti guardate che sulle competenze ci abbiamo sempre parlato questo discorso delle competenze nasce negli anni secoli l'accomandazione europee ma in realtà chi è dietro per lei della scuola ancora è la l'arri inizio di scuola vi posso dire che abbiamo sempre lavorato sulle implementazioni di queste che è una super attività per gli studenti che possono essere presgresse e attività replicabili in contesti anche diversi poi interessato da un po' la compreghezza una mobilità una capacità una comunicazione è che i nostri ragazzi di oggi forse sono stati anche un po' troppo assecondati e hanno un po' troppo più aperti io ricordo c'è un istruttore dell'ufficio scolastico regionale per chi fa un po' raggi non so se è dato un po' bravissimo forse era stato l'unico che sulla disabilità ma era sempre appoggiata e è sempre il farlo e lui diceva proprio questo che dobbiamo effettivamente tenere a punto dei cambiamenti della società ma senza perdere come obiettivo finale che tipo di ragazzo che vuole quello che si forni per questa società cioè anche qui la politica deve dare il carico e gli allenamenti tra i 10 e i 20 anni qual è l'offietta anche la motiva io la rovi rispetto all'oggi anche tu che vedete le riforme all'interno della scuola riformare i licenzi riformare i professionali riformare i nomi identici ma poi io per esempio oggi o me ho cercato di studi e mi dico guarda assolutamente vista la mia ignoranza e la lingua inglese imparo assolutamente la lingua inglese e la tecnologia informatica diventa veramente abile perché sono le migliori offerte di lavoro che oggi si può studere quindi quando vedo questi bambini anche le erano che sono così bravi nel realizzare degli artefatti come dicevo prima anche una semplice locandina di un eletto in una modalità originale dico però tante cose sull'interno l'attività il pensiero divergente la pianificazione la ideazione la presentazione che non è un approvimento si è un approvimento fatto con una modalità diversa con la quale tra noi dobbiamo oggi come oggi combattere tutti i giorni le azioni previste sono queste quindi l'accesso spazio dettaglio per un abbrimenti eccetera non sto qui insomma spiegando tutto il piano originale ma questo ci ha l'opportunità anche di inserire una didattica diversa all'interno della scuola che però è sempre una come posso dire una implementazione del pensiero delle funzioni importanti io devo studerli perché se io penso al coding che è pianificare come la non è quel semplice il continuo non è solo quello la pixel out che è organizzazione è pensiero realizzazione è portare le creazioni nelle acco questo naturalmente è per la scuola secolare io sono molto grave che ho provvisto anche le tecniche principali delle acco grandiose la stampa 3D come dice donna noi cosa ci servono in realtà i ragazzi sono molto interessanti anche di queste no e sono molto bravi soprattutto per le ragazzi che hanno delle difficoltà guarda caso quindi è una modalità per poter impedentare le abilità sottese è una modalità per avere quell'apprendimento significativo per loro è una modalità per attivare anche la desiglia di sessere con l'apprendimento perché molto spesso gli studenti si annorrono ce ne vedono anche questo quindi creare un nuovo obiettivo di apprendimento questa è anche un po' bruttina perché così scupe le pareti non mi piace ma era un'aula avevo fatto una foto e la prima piccola volta stessa è la doccia era un po' veritare però questo era un blu insomma così però non è più diciamo una classe lavoratoria non è come si diceva va al laboratorio di scienze va al laboratorio di tipica adesso viene da qualche classe laboratorio nel senso che all'interno delle nostre classi noi abbiamo a disposizione le tecnologie andiamo a disposizione anche degli ambienti costruiti dove c'è anche quel colloquio come la sua parte io vivo anche questo e il bambino che va in una classe anche collocata parliamo di più piccoli una classe collocata con vedanti insomma ha una percezione di differenza rispetto a questo che va in una classe dove c'è il bambino quadrato dove c'è no è la whiteboard no dove c'è si scrive con la stella della presa giusto di lavagne no i gessi no quando hanno ancora i cataloghi cosa voi ce l'avete eh di nel invece voi oramai la vabbè la vabbè vabbè la abbiamo abolita perché non ci abbiamo più neanche la lavagna dell'ardesa che comatteniamo noi un'altra ma anche a livello storico se ci sono nelle nostre anni non c'è più ci abbiamo quindi la whiteboard oppure voglio adesso vedere le tennine di dash move per esempio quelle che chiedeva tutti però sostanzialmente però questi autotaparatori diventano importanti per gli studenti oggi vediamo tanti dinari da parte di ENERBEL tutte le scuole hanno fatto dei progetti che hanno anche troppo ce ne hanno dato dei soldi che siamo stati obligati a spenderli non a volte non necessitavano di nulla secondo di la farà però dei finanziamenti creavano lo sviluppo delle competenze digitali del personale scolastico per caratteristare la formazione degli oggetti ma anche la finalità principale creava proprio di creare un ecosistema da come è stato chiamato delle competenze digitali per trasformare anche diciamo un'organizzazione scolastica dei processi di sindacito e di amretimento queste sono tutte le competenze chiave europee che riguardano per esempio anche la cittadinanza digitale quindi per esempio la competenza alfabetica funzionale quelle delle STEM lobby di scienza tecnologia ingegneria che torna a dire abbiamo sempre fatto delle nostre classi l'abbiamo incentivato ma se uno va a vedere l'ha fatto anche a riserva un genitore che fa lavorare anche il porto banchino non so io vedo mio marito che costruiva con un figlio l'arco pieno con le frecce quello non è ingegneria non è ideale pianificare cercare materiale adatto quindi però è stato l'altro no funnone sviluppo intervittoriale sviluppo espressione culturali e tutto va a confluire in questa capacità di chi 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 è in grado di utilizzare la legge e quindi noi siamo passati nella scuola adesso qui la faccio vedere tutta di me che non sarebbe stato interessante da una società di informazione vi ricordate Carosello no i più giovani nomi non me lo ricordo quindi tv giornale che era dove c'era delle informazioni no che io ricordo anche piacevolmente a invece diciamo delle così delle informazioni oggi che sono più rapide più veloci vado avanti quindi come posso dire oggi sostanzialmente riusciamo ad avere un'informazione rispetto a un accaduto che è dall'altra parte del mondo è una modalità rapida all'epoca noi non lo sapevamo subito lo sapevamo non so anche le giornali quindi vedete anche il fatto di seguire le giornali oggi quando parli una ragazzina è semplice le giornali perché cos'è no per qualità no però diciamo ma è proprio la potenza un risultato su facebook classico oppure su instagram perché questi più piccoli ragazzi deve essere c'è il senso instagram mi sono scritta tiktok ma non so neanche dove ce l'ho e gli dico ma mi fai una funzione su tiktok che è so curiosa no perché una volta che c'è di interfacci delle ragazzine delle scelte poi adesso un anno è un anno che è un anno che tanto mi sono per già intanto sono facebook e instagram e con che funziona anche fare a compilire delle cose però allora mi è strammata no non mi scrivete niente quindi vedete la capacità l'abilità invece di sapere fare magari con che sanno fare una divisione introna però come sono in grado allora arriva la giusta intermediazione come insegnante no e da ora ricordate facciamo una cosa stai se oggi mi ha ascoltato stavattina facciamo le divisioni decimali e non come spiegare le cose e non non pensano perché cerchiamo che non dire io insieme a voi ma lo ho insieme a me e allora cerco a fare finita e no qualcuno non le persone allora adesso ti scriviamo le indicazioni e scrivete le indicazioni e intanto scrivono no quindi cerchi di vita una volta sempre a volte accetto come si dice da noi in ancora e quindi vedete noi avevamo avuto questi incannamenti di automobili telefono il tempo il tempo il tempo il radio la televisione che sostanzialmente aveva inciso sulla nostra società con la stampa il quotidiano ricordo quando avevo 18 anni tutti i giorni andavamo a comprare noi i piantari tutti i giorni in una ricertata e poi non sono più ricertata però ecco questa idea è essere comprare i giornali che ho perso e mi dispiace perché perché anch'io dopo la mattina faccio relazioni e poi apro e no va quindi anch'io sono diventata a vedere ecco che è che sono passate sotto poche poche esercizioni infatti questo ve le spiace ve le spiace tutto ma soprattutto un'altra sciacchezza no le nostre pubbliche telefoniche no allora per te volte magari suggerisco magari qualche ragazzino di stessa per il parco soprattutto per la lingua di presa e condizia no una ricca roba una mano mano che sentì ho capito cosa significa pubblica perché vedete anche questo concetto anche il messo sta scopparendo l'ubblica i ragazzi oggi non lo sa cos'è pubblica telefonica non esiste c'è sul telefono perché non utilizzate la pubblica telefonica quindi vedete anche la trasformazione della società della complessità quindi noi siamo passati veramente da l'informatica stavolta le serbe io devo sapere subito chiesto le serbe ogni marito stavamo portando una cosa guarda le mani per questo ce l'ha entrato su messa che io ero la mi ero la taverna per dire tempo del covid tempo del covid io credo il covid allora io ho una mio marito c'è una carriana sotto e io stavo da sopra come comunicare con mozzata no perché io non mi potevo muore mio figlio l'hanno svelito dalla fidanzata e anche qualcuno per me ho accontato a quel cuore quindi mozzata e infatti quando c'era 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 una quant'è pezza se la l'hanno nell'epoca l'antica il c'era sotto facendo oh ti serve qualcosa no e io magari però allora ci riferito tu guarda che livelli invece siamo arrivati oggi in un'ottica ma anche l'idefficienza ma anche le quantità di informazioni informazioni rapide cioè gli impulsi a livello informativo e positivo che c'era oggi sono tantissimi perché le informazioni in modo rapido e uno dice ma allora è negativo o positivo se la utilizzando è positivo perché comunque l'informatica ma è il baso tutto della sanità al lavoro la ricerca di teatro di trasferimento in generale la genoma e siamo arrivati a questo alla società della conoscenza una conoscenza di livello rapida dove io colletto il lavoro nella multinazionale che sta a Tokyo sa quello che faccio carri in Italia ok come tutti i giorni in carri in carri quindi no però però ecco cosa male abbiamo visto che l'informazione della persona fa la conoscenza cioè è lì che non gli da puntare sia con gli insegnanti che con le genitori cioè l'informazione deve essere qualcosa che passa dalle ah l'ho letto su Facebook no perché l'interrogazione è il pensiero della persona allora le cose le fake news perché i ragazzi cittavano spesso su le fake news come le conoscere per esempio tutti gli compri che si fanno nelle scuole no anche con gli esperti che vanno a spiegare tu con l'attualiente devi saper scegliere devi saper indagare intugiare sulle informazioni e informarti per capire se sono informazioni di vero sono informazioni falsi cioè quando io vedo per esempio dei ragazzi che fanno delle ricette su Wikipedia allora andiamo a capire cos'è la Wikipedia perché ti dico di non aiutare a prendere le informazioni su Wikipedia chi è che c'è il video come posso fare invece una bicicletta che vi è stata chiesta magari dall'insegnante e portarla con informazioni in realtà protette come posso ricercare le informazioni perché anche quello è una complicazione sapere ricercare le informazioni in modo corretto quindi vedete informare è facile ma formare diventa difficile perché l'apprendimento non è qualcosa di rapido per apprendere ci vogliono gli automatismi cosiddetti automatismi oltre per cui per conoscere servono delle informazioni che vanno filtrate che vanno decodificate che si vanno anche a investire su informazioni in prevesse e che quindi si avviene l'opportunità di dire ok questo va bene questa è una cosa assolutamente è una dicettiva non è una cosa corretta che vi serve per poter realizzare un'informazione le ultime ricerche dell'università estetica di ricerca ha realizzato questa cosa ritornando probabilità attività invece che oltre il 25% delle adolescenti fa uso dello smartphone durante la morte ricordate che è quello il 35% appena svilio il 50% che fa uso frequente durante lo sconchimento dei compiti il 60% durante le attività mediche e il 29% del soggetto per analizzare può essere possibilità di una rischio di uso problematico dello smartphone una ricerca che sembra soltanto il giorno che sembra per vedere maggiormente le ragazze perché ho avuto in questo andare oltre a una ricerca che comunque è stata fatta da un'università tra le migliori in Italia perché anche questo dato che le ragazze sono maggiormente coinvolte rispetto magari ai ragazzi vi lascia pensare perché le ragazze perché le ragazze magari urlano no la si chiama la Friatani no è una con certe stile di vita è una con quelle no come si chiamano le influenze che per loro sono le migliori il ragazzo tutto sommato no viene potesse magari meno magari come c'è un cacciatore ma si c'è lì i ragazzi che ha il chat a muta di oro che vanno provare le informazioni vanno le dute su instagram ma quello che è preoccupante invece è quest'altra parolatica tant'è vero che studiosi psicologi professionisti eccetera hanno idea che hanno una età adolescenziale quando iniziano tutte le problematiche relative per esempio alle nutrizioni si divergiano proprio sul fatto di questo morono in morale da bella ragazza amare eccetera onde per cui iniziano a guardare le false viete iniziano a guardare adesso tra le moda quella che sempre da sentito dire non dal feedback però dai ad le scelte se non mangio quel tot di ore e non moro ragazzi non sono di moro ecco come ce pensate sì sì prof guarda perché quanto che vero è sì dimagrisce o deve cui anche questa ricerca delle informazioni e quale opportunità vedete io scusiamo un po' rimpanzato ma quale ho puntata le rischi naturalmente c'è anche lo stimolo della curiosità che era una delle criticità che noi fattavamo prima la didattica trasversale non è più funzionale soprattutto per meno recenti ci sono ancora degli istituti di scuola secondaria che sono resistenti rispetto alle migliorazioni anche a volte quando uno scolastico è determinato quando io parlo con queste esperanzi ma perché vuoi lasciare la scuola ma perché vuoi cambiare la scuola io fa parla anche con dirigenti scolastici e soprattutto perché ci sono le scelte classiche no ci sono le scelte scienze umane c'è una resistenza da parte degli indizi grandi rispetto all'ottichie delle tecnologie scelte però secondo me neanche il futuro non c'è perché per talità di l'antime direi tutto quello che vuole però abbiamo anche no un'altra modalità affinché quell'avvenimento dell'attività significativo per tutto io do altre opportunità delle attività educative do l'opportunità di utilizzare più canali do l'opportunità di avere anche un'informazione che utilizza più percezioni quella visiva le sperimentazioni in laboratorio che posso fare no delle sperimentazioni metano in gioco altrimenti questi ragazzi di oggi si staccano a ognuno per confluggono l'atteggiamento con il quale la maggior parte si pone di questi suoi che ci sono è quello di i miei frutenti per non dire consumatori allora noi ci chiediamo dove fattiamo questa intermediazione che dobbiamo fare perché se dobbiamo fare l'utilizzo sano e costruttivo della tecnologia e essere invece diventati ad essere solo consumatori dobbiamo lavorare innanzitutto come fuso dei ragazzi quali sono i suoi interessi quali sono le sue amicizie che cosa lo può rendere provativo i suoi interessi gli altri diversi i giovani ecco perché dobbiamo capire perché si testa anche il sistema dopaminergico sapete che c'è la dopamina è una sostanza che sostanzialmente equilibria l'equilibrio scusate il sistema di non so dire di calmare i ragazzi e le persone in generale e negli studi fatti in base si dice che l'effetto a volte che ha uno smartphone o di un computer sono grazie a quello di a un territorio in realtà c'è l'agita in realtà di agita quindi più lavorano davanti a uno smartphone un po' più stanno lì e più li attaccia una situazione alterata allora lo dice ma non lo dovete fare come ha titolo no perché questi contenuti calma che vanno a lavorare con l'effetto no dell'autocamina come interventare perché le devo preoccupare le trovo quando ci sono queste cose che non sono quelle di un mio annunco o di mio figlio o mia figlia che magari sta alcune ore davanti noi o il guardato o a fare elettro ma mi devo preoccupare quando vedo questi segnali quando ci sono degli impulsi incontrollabili avete mai visto le ragazze che magari non hanno il cellulare funzionante e che stanno lì come lo devo portare un po' è tutta una attraversa la l'amore di tutte le contazioni e terno no c'è pensato veramente stata una citazione oppure guardare sempre le notifiche rispondere 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 giorno e notte notte giorno questo questo rispondere alla signezza presenza di mancanza quasi locale di attenzione e concentrazione e questo c'è nel piano che noi lavoriamo all'interno scuola. Tutto ciò, se deviante e se diventa in qualche modo un disturbo psichico, o per il trafino di un trafismo psichico, porta effettivamente all'isolamento, ma anche all'assoluto di denoterapia. E molti ragazzi hanno dato che oggi molti studenti, nei 16-17-18 anni, soffrono di depressione. O per cui dobbiamo, come adulti, cercare di capire come arrivare fuori, come cercare in qualche modo di riportarli a... Perché comunque c'è una sorta di ristrutturazione, l'opportunità, a livello di conoscenza, perché effettivamente i ragazzi di un po' di cinque non si metteranno mai avanti in un microleggere o a scrivere, no, una lettera epistolare. Una volta, una bianconella, ho detto, alla scuola di scuola di comunicazione epistolare. Ho detto che mi guardavo come se fossi una niente. Ho detto, allora che cosa hai fatto? Ho detto che ho messo in mano fuori di carta e ho detto, se ne ho imposto un piccolo pensiero. Io pensavo un piccolo. Ho detto, ma che se ne ho scritto da due tre parole, non lo sarei ascoltato, il pensiero. Quindi... Però la roba è la nostra. Scusate se lo riporto. Perché? Vi capita male andare al ristorante e vedere una coppia anche lungo dei genitori e i figli sono stati lì? Lei sta a cellulare, il pareto sta a cellulare, no? Allora, quel bambino, questa è una bambina, questa è un'attività. Che cosa impara tra questi due genitori? Anno di allogare, a non dare risposte, a non distribuire le pozioni, a non raccontare. Spesso nel questo punto è un genitori che non racconta niente, che non racconta niente, ma cosa fa? Ah, ma io sa che a volte sono di fretta, ecco, ma le persone parlano del termine della pazienza. Io capisco, oggi siamo molto frenetici, ma questo termine della pazienza ce lo dobbiamo anche costruire, perché i ragazzi hanno bisogno di rimandarci, hanno bisogno di essere aspettati, hanno bisogno di mettersi in fuoco, perché tutti, comunque questi adulti, ragazzi, siamo sulla stessa natura. E quindi c'è bisogno di fronte degli altri, vanno dove l'altro, per esempio di un ascoltativo, non un ascoltativo in pace, no, veloce. Eh, sì, sì, dalle 12 stasera. Altrottative significative. Vogliamo andare a fare una passeggiata in bicicletta? Eh, vogliamo un attimo uscire dal centro del paese che volevo vedere se cremmo o no, non so, già un po' di frutto. nemmeno lì preoccupato con formi di volontariato. Io presento sicuramente su questo ci insisto tanto. Anche perché nei piccoli concubini, nelle piccole realtà, l'associazionismo e volontariato, eh, che entra anche nelle scuole, può essere il supporto per migliorare quelle situazioni in cui invece ragazzi non si stanno in casa e non si stanno in casa. e non si stanno in casa. Eh, lo sport, prima di decine, non ti amadori, no, lo sport. Trovando qual'è la scuola, non mi piace. Oppure a volte dico, cosa puoi fare? E la risposta, mi ha detto, mi dico che fa e l'altro. O. Il O, a mio avviso, è la risposta più preoccupante. perché significa che il ragazzino è un ragazzino che non ha delle proposte, non sa lo imparare ed è un ragazzino che molto spesso può essere anche trasportato che poi ci sarebbe tanto anche la mamma sulle diverse tecnologie buone seri, attività caratteristica sociale, cosa possiamo fare? andiamo a domare i futili e i pietti che stanno o no nella residenza protetta cosa fai? fatti evidentemente le proposte, cosa possiamo fare con voi? attiriamo una proposta, attiriamo, organizziamo una festa e infatti una situazione verde e questa è la prossima alla fine perché la proposta è che l'ho fatto ai ragazzi io ho conosciuto tante cose, guardate perdonatemi, no? ho girato un po' di popoli da troppi e molto ma questo perché? perché sostanzialmente volevo cercare un po', no? così degli altri, ma non perché voglio abbiare, non è questo ma per capire insieme a voi se effettivamente in queste situazioni le difficoltà le sapevano dentro, se per esempio ci sono dei ragazzi che invece fanno un utilizzo positivo della tecnologia in modalità del progetto e se invece invece a vostro avviso in modalità di tecnologia sarete totalmente danni e limitati delle domande? stop! Gita a qualità consiglia di limitare? ecco, allora, anche io, no? adesso nel periodo delle comunioni, no? non so neanche il periodo come noi giustamente con lei e il genitore ecco, e i genitori mi chiedono a qualità? allora, quando mi chiedono a fare una comunione che faceva la quarta primaria io ho avuto degli amici che hanno un tre gradi disciplinare quindi voi arriva a tre anni e mezzo, dieci allora, potrebbe essere anche un'età l'altra, eh? nel senso che l'importante è fare un cambiere come utilizzare quel mezzo questo è importante ecco perché io dico eh, scusate, questa è la domanda dico, c'è ascoltativo, ma anche è una comunicazione attiva dove il genitore comunque dare suggerimenti guarda, allora, per andare a scuola quanti serve? papà e mamma sono contenti se tu magari qua, non so, se è la nonna o se è lo sport eccetera lo tieni, lo tieni, lo zainetto e magari non so, devi andare a qualche parte con un tuo amico ci piani oppure noi che piani alcuni psicologi non sono psicologi dicono che però è più la paura del genitore e quindi il genitore dà il cellulare al figlio piuttosto che io l'avevo un po' diversamente e il genitore, scusate, anch'io lo sono ancora, perché vabbè, oramai è uguale, no? una foca diciamo c'è sempre anche quando, ehm, mi sono mai conto, no? 82 anni, perché sono 55 una serie piccola però, è vero che se il genitore in qualche modo dà dei consigli e suggerisce come utilizzare questo strumento e il bambino la percepisce io ricordo quella volta che il mio figlio c'era la PlayStation 2 adesso non so che non mi hanno lavorato, no? e il mio marido fa perché il mio marido la voleva comprare quando mi diceva oggi da te e io, sempre resistente però, voglio dire che il mio figlio ha fatto sempre un utilizzo discreto di queste strumentazioni perché poi, nel PSC2 lui, amante, no? del suonare la chitarra inseriva, per esempio dei cd a ascoltare la musica e lui andava dietro la chitarra quindi, ehm, come vedete per esempio anche proporre delle alternative utilizzare quella tecnologia in un modo sano piuttosto che stare lì e sempre rispondere, no? accompagni, eccetera poi oggi ci sono anche tante modalità per bloccare certe app certe situazioni quindi, ecco magari il genio e su questo fare la vita 9-10 anni questa è un po' la mia idea non naturalmente come sto fare perché fanno anche no? quando vengono in giro vanno a fare le passeggiatelle i genitori che un anno hanno in mezzo per farsi un sito ma qui no? che piano è? il genitore non è più grande adesso no? cioè provare la gentile dare le cose prendere i bracci fanno camminare fanno le volare fanno calentare dentro però ora è il piano che mi fa il genitore e adesso sono nata 9-10 anni anche perché poi vedete c'è una volta anche il genitore un po' resistente perché io il genitore del greco sono stata anche molto resistente no? però dopo il figlio nella scuola tutti c'erano da quello dopo c'era l'altro come no? si sentiva un po' ben isolato allora io non cerco quindi non bisogna sostanzialmente raggiungerlo ma sempre dato delle finanze questo si anzi grazie buona domanda va bene in quanto dei compiti ti dicevi che i compiti adesso il dialogo funzionale adesso non c'è più come la classe questa cosa per quando inizia quando finisce se disturba non disturba sei finito non hai finito allora io per esempio sono una che fa utilizzare no? io sono professore ecco tutto sul casse minimo non c'è più migliore perché quando finisci quando finire inizia non si sa ecco 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 l'indice allora se se gestione cronico cambia volte e farà bene bene alcuni insegnanti inventano per esempio i compiti alle 4 alle 5 ore al giorno questo non deve succedere a tutti però ecco una cosa come insegnante io faccio spiegare anche i compiti ai ragazzi ma perché in un'ottica anche sempre permanente perché l'utilizzo del diario è sentenziale per il maggio per il maggio dopo i giorni a settimana per centaviglie e l'organizzazione è anche per esempio per le politiche le discipline no e il fatto che il bambino vuole studenere fuori iniziare a dire allora allora mi ha vantaggio per i propri umani cioè per me c'è un vantaggio tecnologico, con l'utilizzo del teatro. Ma come insegnante possiedevo completamente la stessa cosa, anche sull'accesso elettorico. Poi, per esempio, se ho dei documenti, se ho dei video tagliere, se ho degli schemi che magari abbiamo fatto in classe, cioè ti dà l'opportunità, è il registro per cercare la fungola, non so, solitamente con prezzi, no? Però è facilmente accessibile. Tu guardi il video, tu guardi il video, ma in automatico, ma la realtà è l'un altro, quindi non si evalera lì. Infatti, allora... E che io stai pensando proprio come l'altoico? Allora, lì però devi fare un portogettore. Io per esempio, Fatima, a me la sera un portogettore, questo è un po' strano, eh? Non so se sei capito. Fatto il portogettore con le famiglie, dicendo questo. Allora, io ho anche altre comunità, altre strategie che riguardano le tecnologie. Però voi lo vedi sicurari e voi vicinari. Cioè, nel senso, io lo ho meglio che riguarda la sperimentazione di scienze, oppure riguarda come risolvere il problema. Adesso vedete questo per il senso di matematica. Oppure geografia, no? Che cos'è l'alto, eh? Voi però state lì, assiduendo lo suo figlio, segua quello, e non altro, e non altro. Certo, il controllo diventa più difficile, ma i ragazzi inizialate sono scelte, perché, ecco, lì non erano. A me fa parte c'è un attaccato, a ilむ, oggi ci sono andato faccio. Due cose diverse, gli wolfs, i luci... Li opi ritori, le leader, li lacqueri, tanto da legge, ... Tu ero lei ovvio qui, con il chiuso a vosso. Perché lui è molto semplice di quanto la occupa, veramente. Sei sempre fin del cuore. È vero, è vero, però. Ma poi ricordi, m'veò magari che, costa da la scena, ma di i dati? le finalità che ci sono non voglio dire cioè non posso perché non puoi uno scuono magari è una questione che non è specifica però quello che io dico per esempio è un utilizzo sano perché comunque serve no? per esempio una carissima a vita che lei è stata anche dottorata di ricerca dell'università nazionale eccetera lei per esempio fa la storia solo e esclusivamente con il video cioè lei ha anche delle magiche di test da studiare però dà anche dei video che sono molto interessanti alla scuola secondaria di Tricolato e posso dire per esempio come costruisce c'era la conoscenza che poi i ragazzi devono fare le navi concettuali o devono fare tutti gli schemi o vogliono dare gli assunti e comunque c'è buona implementazione di quell'attività che va appunto riscontro dell'articolistica che sia anche peggio perché assolutamente fondamentale quindi anche il video è un intervento diritto significativo che i ragazzi ma a costruzio dove comunque lo studente si vede di gioco e in classe poi c'è questa resumontazione quindi capire insieme ecco vedete più vi ho aperto proprio il mio intervento con la pubblicazione a volte l'agito che sta nella scuola viene percepito magari come dalle famiglie come diverso nel senso io lo vedo anche con i miei genitori perché sono con un istante ogni volta la rappresentante le dico guarda adesso facciamo così con la collega per favore informano i genitori perché magari a volte può sembrare ma la scuola oppure la scuola ma la scuola il genitore allora il dialogo con la comunicazione effettivamente è insomma è importante per poter anche risolvere no? quelle piccole lumi che avevano le raggi che è ecco non il fatto che oggi si utilizza tanto anche il santo canale la opportunità di tutti quelli di ragazzi ma sono tutti ove che hanno anche delle difficoltà per femminizzare con più facilità perché vedere un video sentirsi da portare rimane un po' più presso cioè che usa anche il film per esempio che è un antico che è insieme a un di scrittura di senigale e poi comunque passano anni film e conosce non si sa quanti ma ha fatto anche tanti corsi e decidere che utilizzo i film per raccontare la storia però rimangono i canali possiamo utilizzare sono tanti perché non utilizzarli no cioè per carità io sono carica e pena quello no la verità soprattutto la primaria però è anche vero che dobbiamo tenere conto anche di tante altre realtà che oggi potrebbe una società completamente complessa dove le informazioni sono tante ti arriva però è un modo rapido e lo studente a volte si trova anche a trasfare nel senso che come dicevo prima c'era l'umano funziona sempre allo stesso modo sempre con la stessa temporalità però io non si so rapido quindi anche la rilavorazione ha bisogno di che occupare la risposta che nella nostra società perché gli slessico rimane sempre dietro perché gli slessico è io mi sono ritrovata a distrazi che la ragazza è figlio di slessico io lo so che guardavo piccola io poi però ho capito se io non avessi implementato tutte le mie abilità non avessi lavorato oggi forse sarei veramente fuori dal mondo è come quello di protegge diamo l'opportunità perché allora quello riesce ad utilizzare altri canali che magari con l'aspirazione sempre frontale o leggere pagine e pagine non ci accicano quindi vedete no c'è sempre un po' questa sorta di dire funzionare non funzionare allora in realtà può essere la tecnologia un grande supporto per tante situazioni io lavoravo anche con l'inizialità ho detto tutte volte per fortuna che c'è la tecnologia attenente molte disfunzionalità non potrebbero essere in sé in situazioni invece di funzionamento aspettate un vero tutto grazie a voi scusate no ci siamo grazie 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 ancora per l'ospitalità e magari per tutte le intervenute che non solo le famiglie elaborando la comunicazione anche anche l'ultimo se ciò chiedo no perché effettivamente io l'ho passata una volta con me o altre disegni anche dico ok perché dall'altra parte non ne capiscono no e una volta non hai questo riflessione c'è un'ottima cosa allora capire di sì insieme e non la per adesso sono però per questo grazie 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 a tutti Grazie a tutti